Non diamo più le garanzie al sistema bancario, basta, non se ne può più, vi piacerebbe vero? Eppure dentro il decreto liquidità c'è un territorio, c'è una possibilità grandissima di catturare un ostaggio da usare col sistema bancario per far sì che ci diano le migliori protezioni del nostro patrimonio e non ci aggrediscono se qualcosa va male. Vediamo insieme come. Il business nelle banche è dare dei soldi a prestito, incassare gli interessi e soprattutto anche tutto il capitale. Ecco perché se chiediamo dei soldi in prestito ci chiederanno spesso e volentieri una marea di garanzie. Perché? Perché vogliono essere certi che quel denaro torni indietro. In questo schema, l'abbiamo detto in precedenti interventi, la garanzia dello Stato è la migliore che esista. Lo Stato è considerato solvibile quasi in maniera certa e quindi crea due effetti sui rapporti di credito molto importanti. La prima, la banca è serena che le somme che ha erogato torneranno indietro. La seconda è che le somme che devono accantonare le banche a protezione delle eventuali perdite per mancati pagamenti, quando c'è la garanzia dello Stato, sono molto molto piccole. Però, se le banche vogliono la garanzia dello Stato, allora il decreto liquidità ha fatto un'autostrada di opportunità per tutti noi. Opportunità molto difficile da gestire, ma di opportunità si parla. Perché noi siamo colbi beneficiari delle garanzie di Stato in una forma agevolata, semplificata e in alcune volte addirittura automatica. E solo il debitore la può avere in questa forma. Attenzione però. Accedere a una corsia preferenziale per ottenere le garanzie è un'ottima condizione da avere. Ma è altrettanto vero che questa opportunità deve essere utilizzata al meglio. Dobbiamo ottimizzarla. Perché? Perché la garanzia dello Stato potrà in futuro influenzare gli effetti del comportamento della banca e gli effetti nel nostro patrimonio nel caso in cui l'azienda che garantiamo non sia capace di rimborsare completamente il credito che aveva ottenuto. Prima di procedere guardiamo due aspetti fondamentali, ci facciamo aiutare dal Codice Civile. Il primo fondamentale è come agisce, cosa succede quando un fideusore paga per conto di un debitore. Che garantiva. In quel momento il fideusore ottiene tutti i diritti, tutte le meccanismi che aveva sottoscritto il creditore principale nei confronti del debitore, tradotto in termini pratici. Se il Medio Credito Centrale pagherà delle somme per conto delle imprese, il Medio Credito Centrale avrà diritto di rivalersi sulle imprese in vita naturale durante, finché non verrà saldato il debito. Questo è un aspetto fondamentale, ricordiamocelo. Quindi qual è il secondo aspetto? Il secondo aspetto è quando di fideusori ce n'è più di uno. Se il Medio Credito Centrale pagherà delle somme, avrà diritto di rivalersi anche sugli altri fideusori dell'operazione. In maniera tale che ovviamente non ci sia un solo fideusore che paga, se no il primo che paga ha il cerino in mano. Cosa dobbiamo fare quindi? Iniziare a studiare come costruire le fideusioni quando c'è in mezzo anche il Medio Credito Centrale. Ma quindi, se le garanzie del Fondo di Garanzia, in virtù del decreto legge, oscilleranno dall'80 al 90%, vorrà dire che le imprese, che comunque dovranno garantire l'intero, avranno agli occhi delle banche dal 10 al 20% di importi erogati non garantiti da terzi. Ecco che noi ci aspettiamo che il sistema bancario sia molto aggressivo nel gestire questa parte, quindi nel richiedere delle fideusioni aggiuntive. Ora andiamo a vedere i quattro livelli che noi riteniamo essere importanti in caso di contrattazione. Ipotesi numero uno, la migliore, la protezione assoluta, garanzia dello Stato e assenza di garanzia ulteriore. Cosa vuol dire? Vuol dire che a condizioni di credito particolarmente favorevoli si può ottenere che il 10, il 20% non garantito dal Fondo di Garanzia sia garantito esclusivamente dall'azienda stessa e non ci siano fiduciori aggiuntivi. Questa è una condizione difficile da ottenere, ma dovete provare ad ottenerla. In quel caso nessuno potrà, nel Fondo di Garanzia, nella banca, rivalersi su dei terzi. È importante. Ipotesi due, garanzia limitata e separata, ovvero garanzia all'80%, al 90% del Fondo di Garanzia, ma voi contrattate ed ottenete che il 10-20% della garanzia che daranno i fideossori sia esclusivamente inerente alla parte non garantita dal Fondo di Garanzia. Nel caso in cui si riesce ad ottenere questo meccanismo, nel momento in cui l'impresa non pagherà e il Fondo di Garanzia dovesse intervenire, non potrà rivalersi sulla vostra parte, perché è giuridicamente separata. Terza ipotesi, garanzia limitata ma unita. Non c'è niente da fare, ci sarà l'80% del Fondo di Garanzia e il nostro 20% non sarà limitato esclusivamente alla parte non garantita dallo Stato, ma sarà come una grande marmellata all'interno di tutte le garanzie. Ovviamente ciò è una protezione minore, ma perlomeno limita alla banca la possibilità di essere aggrediti se non per quella percentuale minore che abbiamo garantito, il 20-10. Altrettanto potrà fare il medio credito centrale. Esiste un quarto livello, è il minore dei pregi, ma esiste la garanzia sovradimensionata ed unita. Cosa vuol dire? C'è l'80% del Fondo di Garanzia e la banca ci fa firmare una garanzia superiore al 20%. In questa maniera siamo all'interno della garanzia del medio credito e ne garantiamo anche una somma superiore al necessario. Questo non è brillante, ma se riusciamo comunque a limitarla in percentuali molto piccole può domani che succeda qualcosa essere un vantaggio. Non ci dimentichiamo il livello zero che non è oggetto di un'idea migliore del passato cioè le vecchie care fideussioni a copertura integrale quindi il 80% del Fondo di Garanzia e il 100% di un garante terzo così uno ha la moglie piena, la botta ubriaca o la botta ubriaca e la moglie piena. La corretta contrattazione delle fideussioni collaterali permettono di comprare una protezione emotiva verso il proprio patrimonio, una serenità futura in momenti di maggiore tensione che è fondamentale. Oggi potrebbe non avere un valore elevatissimo ai vostri occhi ma in un momento di difficoltà futura potrebbe fare tutta la differenza. Ricapitolando, oggi abbiamo parlato di fideussioni collaterali del fatto che possiamo in qualche modo gestire il valore richiesto di copertura aggiuntiva da parte della banca oltre al Fondo di Garanzia. Abbiamo valutato che abbiamo un potere contrattuale che possiamo cercare in qualche modo di porre a zero le fideussioni o non oltre la percentuale non garantita dal Fondo di Garanzia quindi in alcuni casi sarà il 10, in altri casi sarà il 20. Cos'è che dovete fare adesso? È molto semplice, tre azioni. La prima cosa, chiedere alla Centrale Rischi di Banca d'Italia per capire come sono le vostre fideussioni. La seconda cosa, andare a verificare quali sono i contratti e come sono costruiti le fideussioni già presenti all'interno dei vostri contratti in essa. Terza questione, costruire una strategia che permetta alla banca di accettare la vostra proposta di garanzia limitata o speriamo di assenza di garanzia. Se qualcosa di questo processo non fosse chiaro, noi siamo qua. info.outliersitalia.it Alla prossima!